Ehi! Rosso per la Samb Nel fischio di Tremolada Il tiro deviato dalla barriera Calcio ad angolo Il primo corner Cross sul primo palo Palone che rimane lì Deve allontanare da Pisarda Duello Cile per Angiulli Perché era pressato da Van de Putt E' proprio la belga che avanza Van de Putt carica il mancino Sul fondo a mente Rigoni Di prima per Van de Putt Che cerca lo spazio per il tiro Lo fa! Sul fondo di pochissimo Si può battere Van de Putt Sul secondo palo Raccichini male! E trova il vantaggio il Vicenza 1-0 per gli ospiti Con il colpo di testa Dopo l'uscita sbagliata di Raccichini Va a festeggiare Daniel Capelletti Allora ancora Rigoni Su di lui Volpicelli Traversone in mezzo Il colpo di testa Disturbare Il giocatore di Vicenza Che se ne va comunque Prova il tiro in porta Van de Putt Con le piotti Guerra pensa al tiro in porta Guerra Calcia Deviazione Arriva il 2-0 del Vicenza Con Simone Guerra Complice anche la deviazione Piccolo errore Di Raccichini Ed è 2-0 Per gli ospiti Che probabilmente Chiudono È stato giusto Attenzione qui Tanto a Fontisso Che va in porta Con stupendo Di Simone Fontisso E 3-0 Per il Vicenza Per il Vicenza Grazie a tutti.